La bozza di legge di bilancio 2024 contiene alcune novità peggiorative rispetto agli importi delle future pensioni di una parte dei dipendenti pubblici. Se il testo definitivo che sarà approvato dal Parlamento confermerà le disposizioni contenute nella bozza, le nuove modalità di calcolo riguarderanno in particolare gli importi delle pensioni di chi ha contributi nelle casse dei dipendenti, degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti di scuole parificate e degli uffici giudiziari. I tagli agli assegni pensionistici oscilleranno tra il 40 e il 52% per chi al 31 dicembre 1995 ha 5 anni di anzianità di servizio. Sì c'è questo rischio in finanziaria, nella bozza di finanziaria sono apparse delle novità normative che penalizzano di molto i dipendenti degli enti locali e penalizzano di molto in particolare i dipendenti della sanità, quindi si rischia un problema per le loro pensioni future ma si rischia un problema anche per la stabilità del Paese. Chi matura quindi il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023 potrebbe avere convenienza ad accedere alla pensione prima del 2024. Andando in pensione entro il 2023 infatti si neutralizzano i potenziali effetti negativi delle nuove disposizioni normative. Sì si tiene conto del tipo di contribuzione, quindi parliamo di contribuzione pubblica principalmente e del numero di anni di contributi. Chi ha meno di 15 anni avrà le penalizzazioni più alte. È opportuno sottolineare che al momento si tratta di una bozza, pertanto non vi è certezza che il testo definitivo della legge di stabilità confermi queste condizioni. Quindi per il sindacato diventa particolarmente importante la mobilitazione delle prossime settimane e lo sciopero generale di tutti i settori produttivi che per l'Abruzzo e il Molise è previsto per venerdì 17 novembre. Sciopero generale a cui sarà importante l'apporto che arriverà dal settore pubblico, ambito le cui lavoratrici e lavoratori vivranno maggiormente gli effetti negativi. Sì, il 17 novembre ci sarà lo sciopero generale che riguarderà anche l'Abruzzo e il Molise, una mobilitazione che va avanti da tempo e che comunque mette in discussione proprio queste scelte che a nostro avviso sono sbagliate e penalizzano da una parte il mondo del lavoro ma dall'altra proprio il tessuto sociale. Perché parliamo di penalizzazioni di pensioni che vanno da poche decine di euro fino a centinaia di euro al mese, quindi persone a cui cambierà decisamente la vita. Ma parliamo anche di un sistema per esempio sanitario che rischia di collassare. Stiamo ricevendo tante sollecitazioni in questi giorni di medici in particolare preoccupati dalla penalizzazione che stanno pensando di uscire dalla sanità prima del 31 dicembre. Quindi rischiamo che a gennaio ci siano dei veri e propri buchi e quindi non ci sia la possibilità di dare risposta alle cittadine e ai cittadini che hanno bisogno rispetto a problemi di salute.